Sotto la pioggia peraltro, speriamo che sia ben augurale, si si apre con l'inaugurazione della Temporary Road, ovvero la via dedicata a Luigi Tempo, uno dei due personaggi chiave della quarta edizione del Festival della Parola, l'altro è Georges Simenon e questa sera poi andremo come dire a chiudere il cerchio da tantissimi eventi, come ben sapete il festival e si articola su circa 80 e 20 e andremo a chiudere il cerchio con un primo ospite nazionale e con la serata di Marco Castoldi in arte Morgan che racconterà Luigi Tempo. Gli altri tre fanno fino con il suo recital su quello che è il ruolo della sua vita, è stata un po' la sua fortuna, quello di essere doppiatore oltre che attore di teatro e regista indubbiamente. Poi avremo in terza serata Peppe Servillo, il vocal degli Avion Travel e in ultima serata avremo il giornalista e direttore di giornale Marco Travallo. 3, 2, 1, via! Vedrai, vedrai, non so finito, sai, non so dirti come e quando, ma vedrai che cambierà.